Domenica 22 settembre torna la Piadei, l'evento che da nove anni celebra la storia e la bellezza della regina Viarum che da quest'anno è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio UNESCO. Sarà una giornata ricca di appuntamenti a piedi e in bicicletta come l'Archeo Grab. Nel corso dell'evento, che segna anche la conclusione della settimana europea della mobilità, si svolgerà anche il Campione e la Zanzara, uno spettacolo itinerante con attori e pubblico in bicicletta con ritrovo e partenza da Porta San Sebastiano. La partecipazione è consentita ad un massimo di 70 persone, per l'occasione l'AIM metterà a disposizione gratuitamente delle biciclette. Per saperne di più, romamobilità.it Grazie a tutti!